e ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul doctor di channel oggi sono qua e sto provando a fare un video con il green screen perché dietro ho un bel green screen adesso lo tolgo ok e ora bello mi piace è figo beh allora ragazzi questo video lo dedico principalmente a spiegarvi il perché per due settimane forse anche tre non sono riuscito a caricare il video beh allora praticamente avevo un meglio o ancora un computer non portatile su cui prima facevo i video quindi montavo facciamo rendering e quant'altro che ha incominciato a darmi qualche problema di conseguenza mi sono messo d'impegno messo via qualche soldino e mi sono preso un bel un bel pc che adesso mi metto qua è un bel pc è un pc da gaming ottimizzato per la grafica ed è veramente veramente potente con questo qua sicuramente riuscirò a fare tutto quello che mi serve con appunto il green screen video con effetti speciali e cose fighe detto questo ragazzi io volevo anche ringraziarvi perché siamo arrivati alla modica cifra di 2.210 iscritti attualmente e devo dire che grazie 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 perché vuol dire che comunque 2.217 persone mi guardano mi seguono e guardano i miei video a quanto pare ciò che faccio piace e non c'è soddisfazione più grande di appunto vedervi qua nel mio canale sempre più numerosi tra l'altro è in continua crescita perché veramente sto continuando ad accumulare iscritti come giusto che sia giustamente io sto dedicando veramente tantissimo alla qualità del canale alla qualità dei video a qualità del contenuto soprattutto e quindi diciamo che mi ci sto mettendo di impegno ovviamente se avete consigli se avete qualche opinione da darmi qualche qualche tic qualche consiglio qualcosa qualsiasi cosa che può essere inutile per migliorare il canale è sempre ben accetto quindi fatevi sotto qua sotto nei commenti fatevi sotto qua sotto fatevi qua sotto sì fatevi qua sotto sotto nei commenti sentire così appunto so come aggiustare il tiro e cosa fare ecco qual è la cosa che più vi piace un'altra cosa interessante da dire è che aprirò alcune rubriche extra oltre ai tutorial e gameplay che sarà una rubrica che tratta di kpop e ci sarà anche mia sorella partirei inoltre con la tournée di spettacoli in giro per tutti i centri commerciali d'italia con i video game superstar dove porteremo un fantastico spettacolo che parla di videogiochi non vi dico altro perché veramente vi voglio tenere un po sulle spine perché sarà una cosa epica quindi ragazzi state aggiornati state anna ci vediamo qua appena avremo fatto tutto con i trailer e tutto quello che riguarda sul come dove trovarci quindi ragazzi grazie mille per essere stati qua vi ricordo di iscrivervi al canale vi ricordo inoltre di mettere mi piace commentare condividere il video appunto se mi è piaciuto quel contenuto che avete appena visto e detto questo ci vediamo al prossimo video ciao